Ricordate che ciò che importa veramente è invisibile agli occhi, ma non al cuore, solo l'amore. Ciao, anche tu un amico che non ha più nulla da fumare, si sente triste? Solo, sta fissando il vuoto da ore, aiutiamolo, fallo tornare a sorridere, manda un DM, solo un DM. Sto a pensare, è prosciutto, è prosciutto, è salame, è salame, ma il salame di prosciutto, ma che cazzo è? ? E non ho... Ma cosa? No. Grazie a tutti.